Sì, sono qui, ciao. Ecco allora, ciao Priscilla, ben arrivata intanto su Millennium, buona serata, buon mercoledì. Senti, tu preferisci, ti pretendo, la versione 1 di RAF o questa che abbiamo appena sentito? Ma probabilmente sono all'età, ma io preferisco la prima. Eh beh, ci sta, ci sta. Senti, Priscilla, con te si parla di auto. Prima si chiedeva agli ascoltatori se guidano con il cambio manuale o automatico. Nel tuo caso? Un mio caso assolutamente manuale. Io penso che con le macchine nuove sarei un disastro guidare. Manuale, vedi? Assolutamente manuale, sì. Abbiamo rotto il ghiaccio, ma tu sei super simpatica, super brava, super sul pezzo e si parla, in questo caso Priscilla, con te nuovamente di auto, di auto dismesse però, di auto demolite. È ovviamente facile demolirle, lo sappiamo, grazie al nostro partner di fiducia che conosciamo bene, Infinity Car, ha già consolidato tanti risultati concreti con tanti clienti, come sapete, oggi con te, insomma, continuiamo a parlare di testimonianze, di cittadini soddisfatti. Allora, Priscilla, cerchiamo di capire come mai ti sei affidata ai servizi di Infinity Car? Allora, io avevo una macchina piuttosto vecchia, una Lancia Y di vent'anni, che, poveressa, non ce la faceva più, quindi ho deciso di rottamarla, male in cuore, ho cercato rottamazione gratuita, ho trovato Infinity Car, il loro form, l'ho compilato e in 48 ore ho risolto tutto, ho fatto tutto loro senza problemi, tutto gratuitamente, quindi mi sono trovata davvero bene. Quindi cosa ti ha colpito? 48 ore, tutto, cioè, molto veloce, molto rapido, molto snello? Assolutamente, molto snello, anche perché a pensare, la documentazione che poteva servirmi per smaltire questa macchina avevo già il terrore, invece si sono occupati di tutto loro e soprattutto gratuitamente. Ecco. Per me questa cosa è stata molto importante. Beh, questo è fondamentale, mi sento di dire, specialmente in un momento delicato come questo, è vero? Il caro Vita, le bollette, per cui se abbiamo un servizio affidabile è sicuro che, tra l'altro, ci fa risparmiare tempo e soldi e tutto di guadagnato. Esatto, 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 sono proprio una manna dal cielo, veramente, mi sono trovata molto molto bene, sono proprio contenta, davvero. Quindi Priscilla, insomma, lo consiglieresti a tutti? Assolutamente sì, assolutamente sì, senza ombra di dubbio, guarda, davvero, ho trovato benissimo. Allora, ascoltatori, avete capito bene? Bene, cioè se avete problemi con un'auto che magari deturpa il vostro avvicinato, avete un fermo amministrativo, magari non sapete come fare per demolire la vostra auto, ovunque vi troviate, per esempio Priscilla, ricordiamola in provincia di Torino, chiamate Infinity Car, ricordiamo il numero 0248 40 12 56, oppure andate sul sito Infinity Car, è infinitycarsnc.com, compilate il modulo subito e risolverete così sia il vostro problema che quello della vostra città, per una città pulita, ringraziamo Infinity Car, tutti i comuni delle città d'Italia che ogni giorno si adoperano sul territorio e anche i loro cittadini. Priscilla, grazie ancora, insomma, per questa chiacchiera con noi su Millennium. Grazie, io sono voi. Buona serata a questo punto. Grazie. Grazie, ciao, ciao, buona serata, ciao, ciao, ciao.